musica chi lo offre la mappa oggi? io non offro più un cazzo, ho andato a fanculo questa è la mia evidenza, troll run chi entra per primo? vado vado io vado io vado io vado io vado io eh c'hai cascato, ero un troll camper bene perfetto, posso spagnare la play adesso scad? a via partita no aspetta manca scad no ci sono, ma come era a fianco a me inizia la partita fra 3 e 2 e 1, ma siamo entrati nella stessa ma io non vedo scad ma io sto volando per terra, perchè sto volando per terra? ma scad è laggiù aiuto scad vedi di morire a raggiungerci ci serviresti ammazzati, tanto sei bravo ad ammazzarti, rigenerazione ah eccoti, ciao ciao ciao, allora no non leggere quello vuole spammarsi instagram dai ma è parkour no, ma che palle, non voglio più giocare ciao, parkour easy questo beh bello era abbastanza evidente ci fossero le trappole la posteriore anche per me era evidente dai devi fare molto rapido ahah cazzo saltando subito cad oh vacci ah vacci ok niente sono scivolato possiamo cambiare mappa? per dio parca però se stai in fondo come faccio? sono morto sono morto aiuto non c'è niente di troll in questa mappa è solo un fattuto parkour spawn non l'ho proposta io vaffanculo no no l'hai proposta tu c'è il file audio e vi dice ma facciamo questa mappa troll va bene farà sicuramente un sacco ridere dai raga ma come si fa vieni qua spawn vieni qua vieni qua cazzo cos'hai visto? adesso non so se dalla vostra visuale si veda ma lì c'è una scritta si vede dietro ma qua dietro c'è qualcosa eh vabbè c'è scritto across the left wall cos'è che c'è scritto? camper è lì con l'inglese ancora bloccato camper vieni dai oh 5 secondi passare a sinistra quindi qua vado io dai vai guardalo eh pam 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 spostati però se gli vado addosso cade ma sono al passato esatto che casa come i vecchi con le pandine easy facile ok prossima vai allora anche qua raga torniamo indietro e corriamo sul muro a sinistra ok a sinistra vai 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 a sinistra a sinistra vai io non ci provo a sto punto oh chi mi spara raga ma non c'è danno da caduta? ma ci sono i tipi con le armi ahhh c'è la guerra ma dove siamo finiti in vietnam mancano solo le bombe ah 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 solo gli altri c'hanno le armi comunque sembra una partita di fortnite Fami un po' di spazio In questa zona nera ci sarà sicuramente l'entrata nascosta Ti sono sopra la testa Non ci sono Sì, sì, ce la via, ce la via No, dai Che palle No, ragazzi, appena spawniamo abbiamo tipo due secondi di invulnerabilità Dobbiamo lanciarci subito Sono immortale Ok, dov'è la via, dov'è la via, dov'è la via È qua, di qua, di qua Corri È di qua, è di qua, è di qua, è di qua, è di qua Corri È di qua, è di qua, è di qua Porca no Ah, ma è rimasto indietro solo campi Allora tutto a posto Oh, basta Vai camper, è di qua, vieni, vieni, vieni È già fatta, è già fatta, è già vinta No, no, pezzo di merda Ah, scappa, 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 che uno di vita No, l'ha saltato anche lui Ma qui abbiamo la mente troppo sviluppata O forse c'era un parkour che abbiamo evitato in partenza Ah, checkpoint, ah, grazie Make sure you got the checkpoint Ragazzi, siete sicuri di aver preso il checkpoint Ce ne sono due, li abbiamo presi tutti Eh, me li porto anche a casa se vuole Ma prego Andrea, prima lei, così Prego, prego Eh, devi evitare le trappole, giusto? Esatto, sì Eh, vai, vai Vai, vai Ma va, ma Se ne evitano alla volta, eh Ok, come non si fa esattamente così? Cerchiamo la vera via, raga Torniamoci ai nostri passi Sicuramente è sbagliata quella via Ok Di qua non ci si può passare Perché è palese, non ci si può passare È impossibile Qui c'era sicuramente un altro muro Ma quello è sbagliato Tornate dai membri dell'Isis Eh, non lo so Stiamo cercando nei muri neri Ah, forse ho capito Ho capito perché Sei invulnerabile per due secondi Tira dritto No No Ho capito Bisogna buttarsi in mezzo Ah, no Ok, aspetta, aspetta Aspetta, ci provo io Non disinchiamole Fai così Partono tutte Fai così Partono tu Eh, no Mi ho preso Anche se ero Oh, scassi Sono passato Sono passato Sono qua Sono qua Sono io Sono io Sono più forte Sono più forte Sono vincente Dove sei passato? Scusa Da quel muro È entrato nel muro Però sbaglio È nel muro È nel muro qua È nel quarto cosa Sono qua No No Sono morto Ora vi faccio vedere Vi faccio vedere Vi faccio vedere Guarda, guarda, guarda A dove? L'inizio della quarta Ma se tu segui Andrea Ce la fai Vai, master baiter Parti tu camper Ma cosa? Ero palestemente salvo Vai, è tua È tua È tua Ce l'hai 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 Raga, aspettate Che vado a cercare un checkpoint E poi ve le attivo io Bella checkpoint Arrivo a attivarle tutte io Raga Non dovete più Temere niente Voi Veitate la prima Quando ve lo dico io Ok? Vai, 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 via, 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 via easy molto easy guardalo ciao in che senso easy era da manicomio questa altro che easy Comunque livello 4 per noi è già una vittoria dai famosi trolla No oddio troppo fast son deragliato cazzo deve mettere la musica di sonic No ce l'avevo quasi fatta ero arrivato alla fine Dovete tagliare tutte le curve camper a te non te ne senti a tagliare neanche una perchè erano le mie ancora scariche Non è vero cosa non è vero ti ho visto oddio ce la faccio ce la faccio ce la faccio ce l'ho fatta Mettiti qua mettiti qua ce l'ho fatta Grande scud Stai zitto raga no non dirmi che ha sbagliato non vedo check point bensì la moneta di fort Raga da qua si va No impossibile non ci arriva allora ti leggo che c'è scritto usa la rampa all'inizio per Saltare è già sulla piattaforma dietro al checkpoint se ce l'abbiamo fatta noi Sì Ciao dove All'inizio cediti pure ce l'abbiamo fatta era una bugia perché devo ancora farcela però perché sei disabile che non ce la fai a saltare Dovete prenderla in corsa Eh sì lo so ma non mi prende il salto a me ma guarda io salto non salta io prendo il quattro Ma mamma cosa è stora storia الج me nette Scusa sono illuminati cripto adesso ci mettiamo a facciamo un bodyblock ok esatto a st慢慢orario La natura che impedisce di giocare Ma come si fa Ciao normalissimo così sie già suizioni e non salta Ah, che scarse la fa adesso? Vabbè, ma vai tranquillo Ah, ok, non sono l'unico disabile, si è venuta bene la prima volta Ma non ti fa saltare, è proprio impedito Ma non ti fa saltare, è quello che dico anch'io Vero o no, ti blocca il salto Andrea, torna giù Che stai dicendo? Torna giù Perché? Perché non ci fa saltare, se no Aspetta, vi porto io l'aiuto Forse vi serve questo, raghi Cioè, non sono io stupido allora, hai fatto apposto perché ce la facesse uno solo Esatto Ma qua su non c'è niente Oddio, dove sono andato? Io tornavo al checkpoint 3 Ah no, lascio, là giù Ah, minca che occhio di falco che avete Easy, se passate qua vi toglie il rampino Vabbè dai No, e se salto? No, toglie comunque Ti prende lo stesso Allora ragazzi, secondo me bisogna evitare la piattaforma di ghiaccio Dici? Ormai è tutto un trono, sta mappa, è ovvio che bisogna evitare mezza cosa Cazzo Secondo me il ghiaccio bisogna prenderlo Vi dirò, io ce l'ho fatta senza ghiaccio Ah sì? Sì, fatela senza ghiaccio Ma tanto il sicuro sarà da buttarsi in uno di questi cubi di trappole perché una non si attiva e finisce nell'aldilà No! Come hai fatto ad arrivare la scusa? Boh, ho soldato per sbaglio e me è andato dritto No ragazzi, c'è la moneta di Fortnite No, un po', hai sbagliato raga! C'è un tunnel segreto nel muro dopo la prima rampa e alla fine della prima stanza con le trappole Quanto indietro dobbiamo tornare? Ah è qua! Dove? Cosa hai trovato Scud? È in fondo al primo salto, in fondo proprio attaccato al muro c'è uno spazio in cui penso si possa entrare Ah, sì, ok, perfetto Dobbiamo arrivare qui col ghiaccio Scendere velocissimi Beitare tutte le trappole ma potremmo farlo anche a mano Io le sto beitando, no, le stavo beitando andando a piedi, vabbè Sì, ma sono beitabilissime alla fine Ma sì, non serve il ghiaccio allora, dai Per le pusse il ghiaccio Ok, ce l'ho fatta io Andrea, ma non proprio tutte le trappole, ne bastava Bastavano da quella discesina lì in poi Vieni qua, vieni qua, salta, 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 salta Ti sposti o vuoi far bloody block? Accomacciati Abbiamo perso Camperskad A posto, fatto, easy Che squad Ehm, occhio alle trappole Vabbè, tanto farlo da prendere Oh, cazzo, no, dai Ok, non c'è danno da caduta Uh, checkpoint, siamo al sesto livello Tanto non si deve fare il parkour Get ice then go down this hole Traduci spawn, ottieni il ghiaccio e vai nel buco P.R. ghiaccio e buttati nel buco C'è nel buco Come si ottiene il ghiaccio? Eh, il ghiaccio lo sarà in cima al parkour, a occhio Ma ste cose elettriche a cosa servono? Niente Ma, c'hanno sempre uccisi gli altri deathrun E infatti non ci uccidono Mmm Kyle, vieni qua Oh, dimmi Buttati giù, dritto E poi ci sono le altre da vita Ah, ok, no, serve C'è la camper ma dritta, la camper ma dritta, lui Guarda il camper che è sempre quello che ha la vita più lunga Voglio provare a fare una cosa Vuoi tornare indietro fino in fondo a prendere il ghiaccio? Così Non ce la farei mai No Mary Poppins è stroncata dalle tappole No, sai cosa? Noi adesso faremo il parkour e ci dirà Ma guarda che il ghiaccio lo recuperi Entrando nel muro del quarto scacchetto a destra Quindi buttiamoci in tutti i muri Non c'è niente No, ci deve essere qualcosa nei muri Io mi prendo mezz'ora libera e provo a fare il parkour e poi vi faccio sapere, ok? Ok No, è perché io avevo detto no parkour Non facciamo più parkour che poi divento cattivo Divento blasfemo Divento una brutta persona E siamo di nuovo qua a saltare Oddio Aspetta camper, guarda Scud Oddio Se Scud riesce a prendere il ghiaccio noi possiamo seguirlo a piedi forse C'è un checkpoint di Scud Tiro dritto, qua non c'è nulla Ah, qui c'è il ghiaccio Preparatevi che arrivo Vai, noi poi ti seguiamo a ruota No, l'ho lasciato Scud, veloce Arrivo Vieni, 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 vieni No, cazzo No No, devi andare per forza nel parkour, non c'è modo Ma Scud, se sei riuscito a fare la parte più difficile, failare la più facile Dai, porco Scud No, 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 no Non ci voglio lo chiamo che diventa un casino Ho sbagliato È già abbastanza difficile così Dai, f***o maiale No, ma Vabbè, ma sto salto è astronomico, oddio, non ce la fai mica Dici? Eh, boh, sì, ma è lungo, cazzo No Scud, io non volevo però anche tu a saltarmi addosso Eh, non ci ho pensato Oh, raga, è l'ultimo salto Uh, yeah, ce l'ho fatta Prima di prendere il ghiaccio, analizziamo tutta questa stanza e vediamo Ma ci puoi ritornare poi a prendere il ghiaccio una volta che sei sceso? Ok, sì Oddio, ho visto una stanza Mi ci hai buttato a me nella stanza Cosa? Sì Col body block? Sì Io l'ho vista attraverso il muro quella cosa Eh, mi ci hai buttato a me Quindi? Camper, ok, il buco è fake No, oddio, stavo finendo giù con l'autorun E io che faccio? Eh, comincia a saltare Non è difficilissimo Non così Saltare correndo Ok, sponcio la tecnica, vieni qua Eh, no, ma aspettiamo un camper, la facciamo tutti insieme, dai No, raga, io non ce la posso fare No, no, Andrea, ce la puoi fare, ce la puoi fare Cosa fai, motivatore? Just do it Vai, Andrea Vai, Andrea Vai, Andrea Non c'ho il pon pon, però va bene comunque Mi puoi tirare una fune e salgo da qui Magari troviamo dei rampini là Dai, ma che trovate dei rampini, dai, su Andiamo a vedere se troviamo dei rampini, Scud Tu, camper, continua a provare a fare il parkour intanto Che il 99% non ce ne sono rampini Allora, aspettami a me Prendo le trappole e tu salti tranquillamente, vai Tutto tuo Ok, ce l'ho fatta Checkpoint 7 No, niente rampini Eeeh, zero rampini Eeeh, un sacco di trappole salterine Dai, camper, torniamo indietro a darci un porto morale Ma questo non è difficile, allora Ma questo è difficile, invece Perché la chiamano Trodran se ci ficcano un parkour? Ho messo i piedi sul tuo checkpoint Devo rifare tutto anch'io Cosa che devi fare? Spon sta comprendendo che una volta passato sopra il checkpoint Deve rifare tutto Ho messo i piedi sul tuo checkpoint E anche io, quindi siamo tutti qui Porca me, vabbè Per me è easy Che ritardati Camper, stavo assolutando te che sei il vero ritardato No, mi si è aperto il menu della classifica Ce l'avevo fatta No, c'ero sopra E' caduto giù da solo, porco di... Ma hanno spinto Cacchio, è qua Perché tirate dritto in quel punto lì? Ma è che difficoltà c'è? Eh, perché abbiamo l'inerzia che ci spinge L'autorun, è l'autorun che vi uccide È l'autorun o è l'inerzia? Opzioni Dov'è l'autorun, porco di... Solo levo, c***o, cane, scafandro Angi i popcorn con me, tieni Te ne lancio un po' Io mi metto dietro a prendere quelli che avanzano, ok? Buono Sono i più facili questi, eh? È insbagliabile questo Aspetta che mi levo via, via, fermi Oh, alleluia Ce l'ho fatta Dov'è il checkpoint? Dov'è il checkpoint? Dov'è il checkpoint? Parco de mania Oh, checkpoint livello 7 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ma quando ce ne sono i livelli? Oddio, oh, oh Basta Sono sfatto, raga Stiamo registrando da un'ora Quindi secondo me può anche finire qui da dettran Andiamo a suicidarci No, no No, adesso la finiamo Questa la finiamo Tutta La facciamo tutta Cazzo Stringi i denti, stringi il culo E adesso andiamo avanti Facciamo così Per voi che guardate Finisce qua Dividiamo il video in più parti Ma noi la portiamo a termine Sì, sì, eh Oggi si fa after Allora ho deciso Come after? Eh, dobbiamo finirla Ci vorranno altre 12 ore Detto questo Per oggi Per voi è tutto Noi andiamo avanti Andiamo avanti Ciao Finiamo Ciao Ciao